Le terme luigiane di Acquapesa sono pronte a ospitare la tanto attesa Fiera del Benessere 2016. La manifestazione patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Acquapesa con la partnership dell'Ente di Guardia Piemontese rientra nei grandi eventi dell'Ente regionale e dell'Unione Europea. La Fiera del Benessere aprirà le porte il prossimo 31 agosto a partire dalle 17 alla presenza del Vescovo della Diocesi di Scalea San Marco Argentano, Monsignor Leonardo Bonanno. Si tratta di un contenitore di iniziative proposte dedicate alla cura del proprio corpo, all'alimentazione, allo sport, al termalismo e alla medicina alternativa. L'evento, unico in Calabria, si incentra sui cinque elementi fuoco, aria, acqua, terra, quintessenza. Obiettivo approfondire tematiche che coniughino il microcosmo e il macrocosmo, passando per la conoscenza di sé e degli altri. Infilo diffusione, eventi, musica e informazioni sulla fiera con la diretta radio web di Live Event. Si inizia il 31 agosto, dunque, con il fuoco. Il 1 settembre sarà la volta dell'aria, il 2 della freschezza dell'acqua, il 3 tutta la forza della terra. Il 4 si concluderà con la quintessenza. In programma concerti e convegni con esperti del settore e medici, degustazioni, esibizioni di discipline sportive, artisti di strada, intrattenimento per bambini. L'apertura della manifestazione sarà anche occasione per presentare il progetto San Francesco, in concomitanza del seicentenario della nascita del Santo Patrono della Calabria, del quale si occuperanno il sindaco Giorgio Maritato e la consigliera delegata al turismo Lucia Vaccaro. Nella cinque giorni le terme luigiane diventeranno il luogo ideale per aziende e professionisti che vogliono promuovere i loro prodotti a un pubblico attento alla ricerca di alternative per star bene e vivere meglio. La zona espositiva si snoderà dal centro congressi delle terme luigiane fino alla piazza con la statua della Guardiola, che tiene in mano un vaso dal quale cade a cascata l'acqua simbolo della località termale. Il percorso sarà diviso in aree tematiche all'interno delle quali saranno trattati gli argomenti riguardanti il benessere, turismo termale, cultura, nutrizione, sport, fitness, estetica, discipline eolistiche, natura, medicina alternativa.